Dal 4 al 30 dicembre, Babbo Natale e Natalina hanno deciso di trascorrere le vacanze nell'antica rocca e di lasciar curiosare nelle stanze della loro casa tutti i bambini che li vogliono conoscere. L'ufficio postale, zeppo di bustie, timbri e pacchetti, è il posto giusto dove scrivere ed imbucare la propria letterina. Dopo una sosta nella camera da letto e un salto nel guardaroba, i piccoli possono liberare la loro fantasia con i giochi e i lavoretti dell'officina e poi assaggiare la merenda di Natalina e incontrare Babbo Natale che li allieta con i suoi racconti. Ma ora andiamo anche noi di Telegarda a respirare più da vicino questa atmosfera magica. Ciao, di dove siete? Di Mori. E cosa vi è piaciuto di più di questo viaggio con Babbo Natale? Ma è la prima volta che veniamo, però è stato molto interessante, bello, sì. Avete consigli da dare all'organizzazione? No, fino adesso ci troviamo bene, sì sì, grazie. E a te cosa è piaciuto? Disegnare. Da dove venite? Firenze. Qual è la cosa che ti è piaciuta di più qua con Babbo Natale? Scrivere la lettera per i poveri. Ah, hai scritto una lettera per i poveri. Cosa hai scritto? Ho scritto la metà per i poveri e la metà per me. Ad andare a casa... Ah, no, ad andare a Babbo Natale. Andare alla casa di Babbo Natale. Ad andare a casa di Babbo Natale. Qual è la cosa che ti è piaciuta di più, Lucrezia? Andare sul lettone. Andare sul lettone di Babbo Natale? E come mai ti è piaciuto tanto così? Perché mi hanno raccontato una storia del lettone. Avete qualche consiglio da dare per migliorare l'organizzazione? No, è bellino. Per i bambini costa un po', è bellino. Mi dici cosa ti è piaciuto di più della casa di Babbo Natale? Da Piacenza. Da Padova. Prescia. Tutto molto bello, soprattutto per i bambini e anche per noi, perché se vediamo loro felici... Hai qualche consiglio da dare all'organizzazione per migliorare... No, è troppo bello tutto. L'organizzazione, tutto è fantastico. A te cosa è piaciuto? Babbo Natale. Ti ha raccontato le storie? Eh, sì. Abbiamo scritto anche la letterina? Sì. L'abbiamo scritta ieri. A me è Babbo Natale. A te cosa è piaciuto? Fare i lavoretti nel laboratorio dell'affocatrice che era attivo. Fare le foto con Babbo. A te? Fare le Babbo Natale. A te cosa è piaciuto? Niente. A te invece cosa è piaciuto di più? Fare le foto con Babbo Natale. Sono molto interessanti. Infatti noi abbiamo fatto la mattina, anche il pomeriggio, tutto il giorno. Bene, noi stiamo aspettando il trucco a bimbi, però dai, è stata veramente una bella esperienza. I bambini l'hanno molto vissuta in modo nuovo, in modo attivo, attivo dai. C'era tanta gente, ma credo che non ci siano alternative, purtroppo. Magari smaltire un po' il traffico. Magari sì, organizzare dei gruppi d'ingresso in modo che non ci sia la ressa. Dei turni. Sì. Da Trento. Qual è la cosa che vi è piaciuta di più del viaggio con Babbo Natale? Secondo me è piaciuto di più saltare sul suo letto. Roverbella di Mantova. Quando fanno merenda consiglio di prendere il trucco polare buono. Ci è piaciuto i vestiti di Babbo Natale. Ci è piaciuto moltissimo il laboratorio delle letterine per Babbo Natale. Anche di lavoretti è stato bello. Saltare nel letto di Babbo Natale. Si allargano un pochino più le stanze per far meno confusione magari. Quanti bambini ha incontrato oggi Babbo Natale? Guarda, ne ho visti talmente tanti che non ho fatto in tempo neanche contarli. Erano tantissimi, tantissimissimi. E qual è stata la richiesta più comune? Ma allora, guarda, i bambini mi chiedono di tutto. Dalle ruspe ai treni alle macchine Ferrari. I papà più i Ferrari vogliono Ferrari, sì. No Lamborghini. No Lamborghini no, io non sono più sulla Ferrari. Insomma, facciamo quello che possiamo. D'altronde rossa. E certo, il colore è quello. Ma che bello, quanta gente anche oggi ragazzi. Neanche gli U2. La cosa che abbiamo preferito? Non lo so, il fatto che anche loro facevano qualcosa per Babbo Natale. E Babbo Natale era contento che loro facessero qualcosa. Ma Telegarda, a tutti i telespettatori di Telegarda, tanti saluti da Babbo Natale e da Riva del Garda. Grazie mille, tanti auguri. Buon Natale. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.